Entra subito nella nuova sezione investimenti del tuo internet banking e scopri quanto è facile monitorare il tuo patrimonio ed operare sui mercati. Nella sezione notizie di mercato e ricerche puoi acquisire informazioni da diverse fonti e puoi focalizzare gli argomenti di tuo interesse grazie ai numerosi filtri di ricerca. Cogli l'attimo giusto per fare il tuo investimento. Sarà facilissimo grazie a strumenti come il ticker che ti permette di controllare in tempo reale l'andamento dei mercati anche durante la navigazione o grazie a funzionalità come la modalità push che aggiorna in tempo reale le quotazioni dei listini. Nella pagina ricerca titoli e fondi tramite un motore di ricerca evoluto puoi trovare subito il prodotto che preferisci oppure avviare una ricerca avanzata utilizzando i diversi filtri disponibili. In questo modo raggiungi facilmente la scheda di dettaglio dello strumento finanziario di tuo interesse con tante informazioni utili a valutare il tuo investimento presentate in un formato grafico che agevola la navigazione e la lettura dei contenuti. Per le principali azioni quotate hai a disposizione schede grafiche, il profilo aziendale con i principali indicatori e dati di bilancio e puoi fare un confronto con i competitor. Per i fondi e le SICAV trovi schede di dettaglio con le caratteristiche di ciascun comparto, le performance passate, gli indicatori di volatilità e rischio e l'asset allocation. Dopo aver scelto lo strumento finanziario di tuo interesse, sottoscrivilo con una piattaforma di negoziazione ancora più semplice e intuitiva. Per un'esperienza semplice, completa e ancora più sicura.